Perché chi ha la personalità di utilizzare la propria creatività riesce a vedere cose che tutti guardano ma che pochi vedono. Riesce ad andare avanti quando tanti si fermano e a raggiungere cose che gli altri non hanno neanche minimamente immaginato. È questo il significato di questa frase. Mi può aiutare sapere come funziona il cervello in quello che io voglio raggiungere.